Cari iFighters, bentornati in iFight Club, l'unico vero club dell'alta fedeltà. In questo video vi parleremo, vi presenteremo la linea Clearway della Chord Company, azienda leader inglese nella produzione di cavi audio-video. La Chord Company, cari amici, nasce nella metà degli anni Ottanta in Inghilterra e da subito si afferma quale azienda leader nella ricerca e produzione di cavi per audio. La grande esperienza, unita alla profonda passione per la musica, ha prodotto, attraverso ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e materiali, una serie di cavi ormai riconosciuti in tutto il mondo. L'attenzione alla trasmissione del segnale e la lotta alle interferenze dannosissime sono i caratteri distintivi della produzione Chord. La serie di cavi Chord Clearway è la linea high quality del brand inglese. Il nome sostanzialmente definisce le aspettative, chiaro e trasparente. Realizzata a mano nei laboratori Chord in UK, la linea Clearway beneficia del design della linea C-Line che abbiamo visto precedentemente, la linea di ingresso, con aggiornamento di tutti i materiali costruttivi, anche delle geometrie, per ottenere un livello di interconnessione eccellente nel rapporto qualità-prezzo. Fra i più diffusi e di successo del prestigioso brand inglese, come per la maggior parte dei cavi Chord, il Clearway è stato premiato dalla prestigiosa WOTI-FI nel 17-18-19-2020-2021 come miglior cavo sopra le 50 staglie. Per quello che riguarda i conduttori, entriamo nel dettaglio costruttivo, sono rigorosamente geometria array, realizzati in rame privo di ossigeno e dal diametro leggermente maggiorato rispetto alla serie precedente. Ricordiamo che la tecnologia array significa direzionalità del cavo, è una prerogativa proprio a Chord, quindi segui la freccia sostanzialmente. Questo significa che su tutti i cavi Chord troveremo delle indicazioni, dopo entraremo nel dettaglio cavo per cavo e vi faremo vedere come, e quindi sarà utile seguire il percorso del segnale come indicato dal cavo stesso. E poi l'isolamento. L'isolamento è stato aggiornato a FEP, etilene propilene florurato, qualcosa del genere, validissimo per resistenza, insensibilità ai raggi solari, antiaderenza e resistenza chimica. E poi è stato messo sul cavo un doppio schermo intrecciato in alluminio di grande spessore, questo per evitare tutte le interferenze ad altissima frequenza. E poi le terminazioni, ovvero i connettori. Nel caso degli RCA, per esempio, anche già dalla linea Clearway, vengono utilizzati i proprietari Chord V e E3, che sono rigorosamente disegnati e realizzati internamente in Chord. Sono completamente in alluminio, schermati fino a coprire interamente l'RCA, fino all'ultimo millimetro, questo per coprire sempre qualsiasi tipo di interferenza. Bene, abbiamo esordito dicendo che la Clearway migliora le già buone prestazioni della serie C. Ma definiamo i miglioramenti. Significa più dettagli musicali, maggiore dinamica per un miglior realismo su strumenti a voce, e poi chiarezza, il nome lo definisce, trasparenza. In questo la linea Clearway permette di vedere più in profondità per un maggior coinvolgimento emozionale, perché ricordiamoci, più informazioni ci sono, più coinvolgimento ci sarà, quindi più soddisfazione. Ma perché Clearway? Perché a questo costo garantisci una dignitosa interconnessione dei componenti. Al giorno d'oggi, elettroniche e diffusori sono migliorati in modo significativo, permettendo a componenti, anche di ingresso in telever sostanzialmente economici, di performare davvero bene. Ed è per questo che anche su sistemi relativamente economici una buona interconnessione è una scelta obbligata. La linea Clearway è intesa a soddisfare esigenze di collegamento con cavi di alta qualità, affidabili e performanti. Fanno la differenza nell'impianto, la fanno davvero, si sentono. E sono ideali per sistemi di medio e alto livello, per chi pretende quindi qualità e tecnologia ad un costo corretto. Dove gli altri produttori su questa fascia di prezzo hanno solo valori estetici o di marketing? Cord include tecnologia e risultati. Ma cosa contraddistingue un cavo Clearway? In primis la geometria del conduttore a ray. I conduttori di segnale in rame privo di ossigeno ha più figlie co-conduttore di ritorno. L'isolamento realizzato in FEP, la schermatura con doppia lamina in alluminio ad alta densità, trecciata al contrario per ridurre la perdita di segnale è causata da interferenze ad alta altissima frequenza. Poi i connettori proprietari, in argento, per migliorare il trasferimento del segnale di tutte le frequenze audio. A partire dalla linea Clearway, poi fra l'altro, Cord propone una vastissima gamma di terminazioni, al fine di poter usufruire delle qualità musicali su qualsiasi tipologia di connessioni o device. Fra i tanti ricordiamo i cavi con connettori DIN, per i quali Cord è internazionalmente riconosciuta quale è il miglior produttore in assoluto. Bene, vediamo adesso come è composta la linea Clearway di Cord Company. Iniziamo dalla connessione analogica, il classico dei classici, ormai lo conosciamo, RCA-RCA. Come detto nella fase introduttiva, il cavo è interamente realizzato in Inghilterra. Gode di due conduttori separati, uno per canale, questo per massimizzare la non interferenza fra i due canali e soprattutto anche la comodità, la praticità di poter far passare i cavi magari in maniera più comoda all'interno del nostro setup. E poi i connettori, i VEE3 di Cord, brevettati da Cord, in argento, chiusi e serrati fino all'ultimo millimetro per evitare qualsiasi tipo di interferenza. Il cavo analogico RCA Clearway ha una fascia di appartenenza per un metro di circa 130 euro e ovviamente è disponibile in varie lunghezze. Ovviamente è disponibile per connessioni analogiche anche la versione XLR, ovvero bilanciato, che per un metro ha un riferimento di costo di circa 200 euro. Sempre nel dominio analogico, anche la linea Clearway è dotata di un cavo sub, ovviamente per lunghezze molto amiche, dai 3, 5 o mei tradizionali a seconda delle esigenze. Qui stiamo parlando di un cavo singolo, rigorosamente costruito e realizzato, come tutta la linea analogica ed RCA, con RCA VEE3 in argento, cavo ultraschermato e come fascia di appartenenza la ha dai 120 ai 300 euro. Ultimo ma non ultimo, nel regime analogico, il sempre utile e comodo, sempre più utile e comodo, cavo adattatore Jack 3,5 RCA stereofonico, un cavo molto pratico, come vediamo sempre costruito separatamente per i due canali ed unito nel Jack RCA, utile per le connessioni moderne ed attuali. Stiamo parlando di un cavo che, nella misura standard di un metro, ha un valore di circa 150 euro. Ne abbiamo parlato più volte, Chord Company è famosa nel mondo per realizzare cavi DIN, ed eccolo qui, nella linea Clearway è disponibile la connessione, la terminazione DIN, è questo per connettere componenti di vario genere, fra loro oppure fra diverse elettroniche, ed è possibile avere DIN maschio o femmina con terminazioni anche RCA, ovviamente questo su richiesta, e quindi basta inviarci una mail per avere quotazioni e disponibilità. Entriamo nel dominio digitale con uno dei cavi più classici in assoluto, ovvero l'USB, per connettere computer ad acqua oppure elettroniche che necessitino di connessione USB-A o USB-B. In questo caso il cavo è ultraschermato, molto protetto, ben realizzato anche meccanicamente, i connettori sono stampati e quindi super sicuri, connessioni dorate, e hanno disponibilità di lunghezza dai 75 cm fino ai 5 metri, per una classe di appartenenza di prezzo che va dai 160 ai 270 euro circa. Continuando nel dominio digitale, approviamo ai cavi SPDF, ovvero cavi con connessione elettrica, fra sorgente, DAC, o connessioni, ripeto, fra due device digitali che dialogano in modo digitale. In questo caso possiamo utilizzare il classico RCA-RCA, oppure il BNC-BNC, con questi fantastici connettori sempre realizzati in argento, di cord, oppure un ottimo cavo adattatore, quante volte siamo trovati di fronte ad una meccanica con uscita RCA-SPDF, ed un DAC che preferisce, magari ha una connessione BNC, risolto quindi con questo cavo adattatore. La fascia di appartenenza va dai 120 ai 260 euro, a seconda della tipologia di terminazione e ovviamente della lunghezza. Continuando nel dominio digitale, ma parlando di rete, ormai imprescindibile per qualsiasi impianto moderno, troviamo il cavo RJ45.streaming della linea Clearway di Cord. In questo caso troviamo un cavo con schermatura singola delle doppie trecciature di cavi all'interno, connettore stampato chiuso in metallo a magnetico per evitare qualsiasi tipo di interferenza e soprattutto con un'ottima presa meccanica. Conduttori privi da ossidazione, quindi terminati affinché possano durare nel tempo e garantire prestazioni costanti nel tempo. E stiamo parlando di un cavo che dai 0,75 ai 5 metri o più di lunghezza a seconda della vostra esistenza la vostra scelta va dai 120 ai 400 euro. La linea Clearway include anche un ottimo cavo HDMI sempre più imprescindibile per le nostre connessioni audio e video. In questo caso due versioni disponibili 2.0 e 2.1 2.0 18 GB per secondo per risoluzione fino a 4K nativo ed un 2.1 48 GB per secondo per risoluzione fino ad 8K lunghezze varie dai 0,75 fino ai 5, 10, 15, 20 metri prezzi a partire dai 190 euro in su. Come per tutte le linee di cavi abbiamo connesso le nostre elettroniche e dobbiamo connettere i nostri diffusori. Vogliamo farlo con la linea Clearway? Ottima scelta. Cavo di potenza per diffusori dall'ottimo diametro dalla grande prestazione acustica dall'ottimo isolamento che permette di trasferire il segnale anche importante anche per lunghezze molto molto lunghe. Terminato ovviamente con i connettori proprietari cord le banane e le homiche relativamente tutte costruite in argento è un cavo dalle ottime prestazioni che come fascia di appartenenza per un 3 metri orbita intorno ai 350 euro. Relativamente da poco la linea Clearway è stata dotata per la prima volta di un cavo di alimentazione. In corda hanno lavorato tanto ed hanno realizzato un cavo dalle ottime prestazioni e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando di cavi che ad esempio da un metro hanno un valore di circa 170 euro fino ad arrivare ai 250 per il 3 metri. Sono cavi costruiti con un'ottima schermatura dalla grande capacità di trasportare corrente dal basso rumore meccanico e soprattutto realizzati con delle ottime spine di accoppiamento che sono tra virgolette spesso e volentieri responsabili magari della cattiva qualità di un trasferimento di segnale. Cord Clearway Power Cable un ottimo cavo per connettere sistemi alla vostra presa elettrica. Bene cari amici abbiamo quindi visto e approfondito e capito le qualità e le funzionalità della linea Clearway di Cord Comp. Per questo video è tutto vi lascio al sito e dal prossimo video buona musica a tutti da Hi-Fi Club ciao a tutti da Fabrizio Ciao a tutti